Buona posizione, possono passare a condurre se lo sfrutteranno a dovere Prova la conclusione, un gran gol da calcio di punizione, difesa non proprio impeccabile Possiamo apprezzare meglio la punizione di prima con questo replay E beh, ha preso la mire, ha fatto secco il potere con questa conclusione A rientrare l'interno piede